Salve, Giorgio Crisafi TV. Siamo a Vienna. Queste luci, il lampeggiare di queste luci, è la polizia di Vienna che si è mossa per impedire una manifestazione antirazzista di giovani studenti. Quindi, guardate, non c'è polizia in giro, ci sono solo delle macchine della polizia. Bellissimo. Così. E questa è la città di Mozart. Attento, Giorgio, Giorgio.